Il meglio per me è il parmigiano reggiano DOP di montagna. Il meglio per me è le uova bio 100% italiane. Il meglio per me è fare la spesa online per risparmiare tempo. Ognuno ha il suo meglio, ma da Carrefour la convenienza è per tutti. Trovi un risparmio di qualità con oltre 500 prodotti Carrefour a prezzi bassi sempre. Come il caffè miscela tradizionale Carrefour Classic 250 grammi a 1,58 euro. Carrefour, il meglio per me.